e bentornati su The Red Dead Station serie resident evil revelation 2 ci eravamo lasciati qui mentre cercavamo di scappare dopo che avevamo trovato la nostra ma cara amica urlante ormai cadavere era un membro di terra save quindi io direi di andare avanti e vedere se riusciamo a uscire da questo schifo e via che stanno sbatacchiando un po' comunque te mi raccomando fammi luce perché non vedono piffero niente ho anche le luci puntate quindi è un po' un problema come dicevo nello scorso episodio la grafica poteva essere anche un po' meglio eh dai andiamo di qua o andiamo di qua e io andrei di qua ma tanto ci sfonda quindi direi di andare qui intanto quello schifo che ha ammazzato la ragazza non si sa che fine abbia fatto ma sicuramente sempre in giro prima o poi ce lo troveremo davanti qui cosa c'è non si può prendere nulla e sto andando avanti con coltellino lei la moira lì che ci viene indietro c'ha la torcia con le batterie infinite io vorrei sapere dove le trovano quelle torci ce la voglio anch'io una così eh 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 qui c'era qualcosa un rubino così un rubino dentro resident evil perché che cazzarola ci facciamo con un rubino apriamo anche qui uno zaffino non sapevano che bonus medici ci hanno messo le pietre preziose che è minecraft ossidiana dove vi ricordo che dobbiamo scendere per andare a recuperare le chiavi che aveva il cadavere appeso noi abbiamo cercato di prenderle il cadavere è andato giù è strano che non ha detto tipo cazzo roba del genere la chiave non c'è però no no che la usi a fa ci sono i zombie perché usare una pistola così si mira è staccata con la caduta classico è troppo buio illumina qui intorno ah ok torcia si torcia no ok possiamo anche cambiare personaggio usare la nostra piccola scaricatrice di porto dai brava guidami perchè non so dove minimamente guardano è pigliata in cosa dai chiavi dai perdiamoci un'ora allora il cadavere è qui quindi le chiavi possono essere tanto lontano ho capito è caduto da là oh io non l'ho vista fa tutto questo ok ok tanto per non far casino a bene so muori ce n'è altri estica bimba bimba sono violenti loro oh eeeh schianta bello in un occhio l'animazione è troppo fantastica dov'è muore dove si trova qualcos'altro tanto è che se vengono zombie li faccio fuori facilmente almeno questi qui sembrano semplici felici che cazzo no la scala no no oh quando finirà tutto questo è appena iniziato ho una pistola e non ho paura di usarla in testa in testa ecco fatto bravo morizio e schianta accidente a te no non si ricarica oh tutorial su come ricaricare l'arma no eh sicuramente ne arriva un altro ora me lo dice come schivare si non 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 è proprio da intelligento entrare qui dentro sti sacchi appesi o mi fanno vedere niente dai abbastanza adrenalinica come azione non riesco neanche a parlare dai e che sti cazzo muori poi c'è mio padre di là che ha sbattuto la porta mi ha fatto risaltare non mi ricordo minimamente la strada ho una memoria del del cazzo e dai dai e dai via, arrivamoci di qui no, non ho più niente da ricaricare l'hai chiusa la porta prima non ce n'era neanche uno e stranamente appena ho preso le chiavi sono arrivati tutti insieme quindi vuol dire che c'è qualcuno che ci osserva sicuramente ce li manda apposta e stiamo trovando armi a josa così per niente per cambiare arma così perfetto ok così una fettativa c'è solo due colpi in canna ok perfetto forse ti serve una pistola no, assolutamente no mi dispiace ma non uso armi non dopo l'accaduto merda scusa l'avevo scordato magari troviamo qualcos'altro eh, troviamo qualcos'altro da lì ma certo ecco non capisco perché c'è qualcosa che luccica laggiù ma non riesco a vedere cos'è ti faccio un po' di luce ok ok un'arma contundente questa fa il caso mio ok abbiamo preso un piede di morco di paia di morco di porco Mori può usare il piede di porco e colpire i nemici con RT estordirli colpendoli da dietro può anche effettuare un attacco a terra sui nemici con RT quindi praticamente è più violenta l'ambizione a pistola l'ambizione a pistola via qui non si sa bene cosa ci sia oh tutto pazio continuiamo con le piede preziose va bene penso che abbiamo preso tutto non posso riprendermi lei eh ora che ho il fucile così sparerà un automatico eh però la ragazzina oh finalmente non è che dall'inventario mi puoi dare quello che hai preso vero? niente vabbè tipo se torno qui mi sa che le devo lasciare lì vabbè vediamo cosa accadrà di qua odio odio le bambine negli horror Claire l'hai visto non è vero? sì ho visto qualcosa posso prendere quando mi pare ok allora con lei punto e con lei raccatto la mia brava robina e direi di caricare già anche la pistola non si sa mai quando oh perfetto ah forse stiamo uscendo ragazzi stiamo andando in esterna sento dei respiri già troppo questa è un'esterna secondo voi si apriranno quelle porte? eccoci la marchesa del grillo ci potete dire parlatemi di cosa bla questi braccialetti cambiano colore in base alla paura e tu di preciso chi saresti? così tanta sofferenza non sapete ancora di cosa aver paura la mappa come vediamo la mappa ok la mappa voglio vedere la mappa la mappa la mappa risposto l'inquadratura da un'altra parte così la vedete anche voi poi possa a parte che è subbinario questo affare qui quindi da qualche parte eventualmente c'è un interruttore sembra una via di fuga tecnologia di merda si inizia con gli enigmi non so minimamente cosa io devo fare manca una ruota dentata perfetto cioè abbiamo preso una ruota dentata ok almeno non ci è dato sapere no ok lì ci va una ruota dentata per azionare tutti questi ben marchi in genio quindi andiamocela a cercare non si sa bene dove non si sa bene come non so minimamente dove stiamo andando ragazzi vediamoci un po' dell'obbettina e continuiamo a circonnavigare admin chiamma sembra comoda dovremmo comprarne una ah si permetterà c'è incastrato qualcosa eccola lì la rosella quindi ecco manca la corrente magari c'è un interruttore sono finiti tutti gli attacchi zombie fasciatura fasciatura ferma il sanguinamento usabile anche se è posseduta dal partner perfetto cos'è la custodia a parte una custodia contenente parti per una modifica delle armi quindi qui ci sarà un tavolo da lavoro classico perfetto puoi potenziare l'occupaggiare le tue armi ma anche il lavoro e noi vediamo cosa possiamo fare cosa potenziamo il potenziare è la pistola non dovremmo avere altri potenziamenti da usare giusto e infatti abbiamo potenziato la pistola e quindi la equipaggiamo anche perché noi siamo un po' così e andiamo su a cercare sto piffero di interruttore è chiuso dall'altro lato quindi niente torniamo giù allora qui abbiamo trovato il banco del lavoro e non ci interessa almeno per ora l'interruttore te vieni a far luce moira ora ti spingo su guarda se riesci a salire ok ah questo è in copo come il resident evil 4 mi sembra forse il 4 no raga andiamo un po' e quindi adesso siamo con moira e il suo gran bel piede di porco alcune casse devono essere sbloccate muovi il cursore per trovare il punto di sblocco la posizione del punto di sblocco può essere determinata dal colore del cursore dalla vibrazione del controller ci fa il suggerimento solo per la prima sequenza non ci siamo riusciti in questo momento adesso è sbloccato il nuovo cursore si l'ho capito allora perfetto non lo trovo e non lo trovo ecco perfetto va bene niente male vuol dire che possiamo portare più munizioni andiamo avanti cerchiamo questo cappero anzi questo cazzo di tasto come direbbe la nostra amica abbiamo la chiave non poteva farla prima ah si no ci siamo andati prima giusto è vero ci è andato ad aprire la porta quella che non si non si apriva forse una volta fuori troveremo chi ci aiuterà fuori l'interruttore dobbiamo trovare dura no di qua si riscende non ci interessa stiamo vicino a qualcosa allora la sala è quella molti probabilmente dobbiamo fare il giro stanno con un addetto cazzo voglio solo andarmene di qui eh una marchesina cerchiamo di non correre troppo ehi fai luce l'avessi preso mezza volta che schianta ricarichiamoci anche la pistola per avercela carica ma direi di andare avanti col fucile eh lui veniva da qua quindi ora dovrebbe essere lì ma porca trota era una cella esci sorti questa è libera ma vediamo magari ci fosse ci fosse qualcosa qui c'è qualcosa lettera del prigionario cara mammina non so se mai leggeremo ho bisogno di te ci chiamano esperimenti ci sono tutti i giorni tutti i giorni cosa ho fatto eliminando questo perché lui c'era la casa così fa male ogni giorno ho paura di quello che potrebbe accadere il giro su giro mammina per favore aiutami scritta così sembrerebbe la lettera di un bambino inquietante questa cosa e continuiamo ad aprire porte eccoli lì ti pareva ma lei non doveva tipo attaccare aia 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 e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè dai dai ma porca di quella tuttana e sprechiamolo chi è che sta respirando ti scansi eh ti scansi eh cerca di collaborare allora la prossima volta qui dovrebbe essere libera ah i sensori con cui sono appaggiati gli esperimenti bisogna il verde l'adrenalina verde normale arancione ansia paura mutazione rosso se il sensore diventa rosso vuol dire che è già passato giusto da mutazione sparati immediatamente eh no aspetta vediamoci le munizioni che fanno sempre bene sicuramente c'è qualcun altro perché lo sento respirare in malo modo ed è tipo qui probabilmente arrivo a quei meccanismi del cazzo cazzo quello è grosso forte ci proviamo direi di no non ci ha visto non ci ha visto e noi ce ne andiamo ok e direi arrivati a questo punto direi che possiamo fermarci qui ci salutiamo per poco se vi è piaciuto il video e il gioco ragazzi mi raccomando tanti belli piacere sponciate a bestia condividete iscrivetevi al canale iscrivetevi pure alla pagina facebook google plus twitter link in descrizione andate a vedere i miei vecchi video i gameplay di dragon ball xenoverse la sala giochi e tutte le retro recensioni e anche gli speciali e soprattutto raga stay tuned ciao Grazie a tutti.